Il Taranto torna al successo e batte lo Iacovone di misura 1-0 il Pomigliano e la sesta vittoria nelle ultime sette giornate di campionato, quindi si allunga la striscia positiva per il Taranto che sale a quota 45 in classifica. Ci sono subito delle novità in formazione, in partenza i Rosso-Blu rinunciano a Rosania, squalificato che è in tribuna, non c'è neanche Capo che per la seconda domenica consecutiva non va neanche in panchina, sempre perché non è al meglio della condizione fisica, al centro della difesa accanto a Miale gioca D'Angelo, viene rispolverato, Cacciola sistemato a sinistra della difesa a 4, il modulo è sempre lo stesso, 4-2-3-1 con Favetta che fa il terminale offensivo. La cronaca non è corposa nel primo tempo, al settimo minuto c'è un tiro cross di Ancora tra i migliori in campo, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e poi termina in fallo laterale dall'altra parte. Il Pomigliano si fa vedere al quindicesimo minuto con un diagonale di Vincenzo Pisani, il capitano calcia di sinistro sul fondo. Tre minuti più tardi ancora Pomigliano pericoloso in avanti con una conclusione da fuori aria di Labriola, para in due tempi Paolo Pellegrino. Al trentaduesimo il gol che sblocca il risultato che poi sarà il gol decisivo, calcio d'angolo, il terzo della serie in favore del Taranto lo batte Marsili, in area di rigore il capitano Claudio Miale arriva più in alto di tutti e di testa manda il pallone in fondo al sacco. Seconda rete stagionale per Claudio Miale, la precedente l'aveva realizzata sempre lo Iacovone contro il Potenza il 10 dicembre scorso. Con il punteggio di 1-0 si va al riposo, nella ripresa sicuramente il gioco è migliore. Il Pomigliano deve cercare di raddrizzare il risultato e allora attacca di più il Taranto a spazi e cerca di sfruttarli. Al dodicesimo c'è un cross di Ancora per D'Agostino che prova a piazzarla di piattone, pallone che termina di pochissimo a lato. Al sedicesimo c'è una vera e propria prodezza dell'estremo difensore del Taranto, Juniors classe 98, Paolo Pellegrino, che va a togliere un pallone destinato all'incrocio dei pali calciato su punizione da Marzullo. Gran parata dell'estremo difensore Rosso Blu che poi grazie a questo intervento risulterà il migliore in campo. Al ventesimo percussione di Ancora, gran partita la sua, ma il suo tiro non è efficace. Al ventunesimo il primo cambio nelle file Rosso Blu, entra Portoghese, esce Lorefice, Mister Cazzarò effettua una sostituzione tra Juniors. Nove minuti più tardi il Taranto si abbottona, esce un attaccante, vale a dire Cristiano Ancora, tra gli applausi del pubblico entra in campo Mauro Gori, il Taranto adesso imbottisce il centrocampo. Al trentaduesimo il pomigliano si fa pericoloso con una sventola di Mannone, il difensore centrale da fuori aria scalda i guantoni di Pellegrino sulla respinta di Finizio, si vede deviare in calcio d'angolo da Bilotta, la conclusione a botta sicura, brivido per la retroguardia ionica. Al trentottesimo Taranto pericoloso, Portoghese appoggia per D'Agostino, che da buona posizione tutto solo, colpisce il pallone, sembra gol e invece la sfera termina sul fondo. Ultimo cambio al quarantunesimo per il Taranto, entra Diachite, esce Favetta, non cambia l'assetto, esce un attaccante, ne entra un altro, il Taranto resiste, soffre nei minuti finali ma porta a casa la vittoria e tre punti importanti per proseguire la sua marcia verso migliori posizioni di classifica. Il Taranto è quota 45, domenica prossima trasferta a Picerno.